Il lavoro che abbiamo presentato oggi pomeriggio riguardava la riqualificazione energetica e sostenibile dell'ex Convento dei Gesuiti di Mirandola. È un lavoro che vede una multidisciplinarità al tavolo solito nostro, quindi del PTE, che coinvolge ordini, collegi professionali, associazioni di categorie e altri enti. Questo approccio è stato utilizzato per dare degli input, delle piccole sinergie su questo tipo di edificio molto critico, molto particolare e delicato perché è un edificio vincolato e storico. Sì, un edificio storico, appunto parliamo di Alessandro I Pico 1617, il primo progetto, poi la realizzazione di qualche anno dopo, quindi sicuramente un edificio complesso. Quello che il lavoro di analisi di gruppo che abbiamo affrontato come AES ha messo in evidenza appunto una potenzialità di risparmio interessante anche su un edificio storico vincolato, con dei limiti legati al fatto che non esistono incentivi, per esempio, specifici per questo tipo di edificio. Quindi effettivamente si fa difficile andare a riqualificare in modo pesante un edificio già con tante particolarità. Però quello che abbiamo messo in evidenza sono sicuramente molte possibilità tecniche e tecnologiche di applicazione, sia dal punto di vista impiantistico che dal punto di vista edile. Per cui speriamo appunto di poter continuare con questo lavoro che è stato appunto sostenuto dalla Fondazione, nel vedere realizzate anche solo in parte quelle che sono state le nostre, il frutto del nostro lavoro.